incontri inconsueti trattori e spettatori fatti di confidenze sussurrate in un letto e racconti di mafia o meglio di antimafia narrati attraverso le storie di quanti hanno cercato di sconfiggerla a costo della loro stessa vita due momenti diversi ma ugualmente significativi quelli che hanno caratterizzato la sesta giornata del festival internazionale castel dei mondi di andrea ad alzare il sipario è stato uno spettacolo che ha già fatto il giro del mondo presentato dal 2012 in mentre continenti e più di 30 città todo lo che sta a milado del drammaturgo e artista visivo argentino fernando rubio sette performer femminile e altrettanti lettri matrimoniali disposti in piazza catuma per accogliere di volta in volta un'attrice e uno spettatore l'essenza stessa dello spettacolo che si realizza in quel momento indimenticabile che l'incontro tra due sconosciuti è stato ancora palazzo ducale ad ospitare invece l'appuntamento serale del festival sul palco tre attori andriesi antonio memeo domenico tacchio e agata paradiso che hanno portato in scena uno spettacolo tratto da un testo del giornalista michele palumbo scomparso un anno e mezzo fa storie di antimafia un viaggio nelle vite di alcuni personaggi simbolo della guerra alla mafia come pippo favo peppino impastato tutti legati purtroppo dallo stesso tragico destino i personaggi principali che raccontiamo in questa in questa storia sono assolutamente un emblema un emblema di quello che è veramente il coraggio senza fini senza confini un coraggio senza senza interessi l'unico interesse è quello di liberare una terra la nostra d'italia la sicilia soprattutto da dalla morsa insomma che attanagliava appunto tante grandi città e tante persone che erano costrette ad essere sottomesse al potere al potere di essere riprante insomma dalla mafia potere criminale mafioso fatto di atti atti criminali quindi quindi per me per me è stato anche un impegno per me è un impegno quello di portare nelle scuole soprattutto e al pubblico il racconto questo racconto grazie mille